Sette cicliste influencer sono pronte a pedalare lungo le strade della ciclovia penninica Alte Marche promuovendo i nove comuni legati al percorso e le loro gustose tipicità. Si partirà dalla fiera del tartufo di Acqualagni e si arriverà a Frontone passando per Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Piobico, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Questo è il progetto ciclovia delle gusto che dal 24 al 27 ottobre si riproporrà per il secondo anno con ore di pedalata alternate a momenti conviviali dedicati ai prodotti tipici del territorio e alla loro conseguente promozione attraverso i canali social delle influencer su pedali Silvia Gottardi, Linda Ronzoni, Ilaria Fiorillo, Chiara Orzino, Giussi Parisi, Fiore Baratti e Veronica Sant'Andrea accompagnate nell'occasione dallo chef Davide Moioli. È un binomio praticamente perfetto perché dopo una bella pedalata, dopo una faticata nelle salite del Monte Catra, del Monte Nerone e comunque dei territori delle alte marche, chiaramente non può mancare quello che è un buon piatto di pasta, una crescia, una marena, un cavallo o non so cosa. Rosa è stato, ha caratterizzato l'estate delle alte marche con la partenza del Giro d'Italia femminile, woman e quindi continua la promozione in Rosa nel territorio delle alte marche. Allora il progetto parte giustamente giovedì sera quando arriveranno queste ragazze, sono delle blogger che gireranno praticamente su questa ciclovia per i successivi tre giorni. È un giro che deve permettere praticamente alle influencer che sono delle ragazze che arrivano da Milano, arrivano da Bologna, che hanno tantissimi follower che devono permettere diciamo di conoscere questo territorio non soltanto per andare in bicicletta ma anche per fermarsi ed assaporare quelli che sono i nostri prodotti tipici e entrare anche nei nostri ristoranti. Credo che una delle filosofie più importanti è quella che segue il brand alte marche che ha promosso questa iniziativa e grazie anche a aver vinto questo piccolo bando che ci ha permesso di riproporre la ciclovia del gusto per il secondo anno consecutivo.